Buonasera da Michelino DJ, Pienza Radio 67, questo è quello che ha detto il norvegese al pensionato di Fano appena dimesso dall'ospedale di Rio, la Saudagi, dopo l'intervento ha dato a buon fine, signore e signori è un momento strappalacrime, veramente ci sono tutti, le elezioni in Brasile si sono fermate per questo momento magico e così toccante dell'amore così profondo di due persone, è una cosa incredibile, ha pianto l'ula, hanno pianto tutti, 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 una cosa commovente strappalacrime, e che cosa dire signori, qui viene in mente tutto, stetti più alto, ci siamo conosciuti insieme, roba ghiacciano, signori è il trionfo dell'amore.